ciao a tutti amici sono sempre io paolo fiat oggi siamo qui in un video molto veloce molto diretto che ve lo manderò così in onda come lo sto registrando è un video per dirvi semplicemente grazie a tutte quante voi che mi seguite e che mi supportate sul mio canale youtube canale youtube che l'ho aperto per passione giusto perché mi piace questo po se mi piace condividere con qualcuno che ha la mia passione che è l'agricoltura e la tecnologia però se vi posso dire la verità non ho mai pensato di avere tanti iscritti il mio canale è aperto da un bel po l'ho trascurato non caricavo video qua e là adesso sto caricando video con frequenza che usciranno video ogni giovedì sempre alle 15 perché alle 15 perché secondo me alle 14 ci sono troppe persone che mettono video quindi alle 15 un po per differenziarmi quindi per dire se volete quel video io lo trovo più tardi e la domenica alle 10 di mattina vi sto facendo questo video per ringraziarvi anche per dirvi per dirvi grazie a tutti quanti quelli che mi che mi sono iscritti si sono iscritti al mio canale ma soprattutto grazie anche a quelli che vedono soltanto il mio canale quelli che commentano che mi chiedono informazioni perché sono felice di dare informazioni vuol dire che a quelle persone li è interessato quel argomento che ho trattato quella cosa che ho trattato e si sono incuriositi quindi è molto interessante vedere tante persone che si approcciano bene così al mio canale siamo arrivati a 100 a 100 iscritti quindi a tre cifre non ho mai pensato di arrivare a 100 iscritti il mio canale non cresceva più tanto ma io non ho mai mollato di mettere video ho messo sempre video anche se il mio canale non cresceva tanto proprio perché è una passione per mettere video poi faccio quelli determinati lavori e quelli determinati seme perché mi servono a me quindi io accendo la fotocamera e condivido con voi niente è un video diretto per mandarlo così soltanto per dirvi grazie non so mai come ringraziarvi abbastanza vedete sono all'interno della serra arriveranno tanti video semi tanti video di trapianti qualsiasi cosa state sincronizzate sul mio canale se volete avere maggiori informazioni e niente arriveranno anche video molto più interessanti qualcosa di più di qualcosa di diverso delle classiche semine e niente per questo video e tutto quanto noi ci vediamo alla prossima vi saluto da polo fiat e tutto quanto e soprattutto dall'orto di polo fiat e tutto quanto dalla serra e tutto quanto e grazie a tutti quanti di questo traguardo che abbiamo raggiunto dei 100 iscritti spero che possiamo sempre migliorarci insieme e se avete qualsiasi cosa da dirmi o da commentarmi o non so avete qualcosa da chiedere potete pure benissimo scrivermi su youtube sotto i commenti di questi video io rispondo a tutti quanti anche se non è l'immediato ma rispondo a tutti quanti e soprattutto potete iscrivermi anche sulla pagina facebook che è tecnologia agricoltura e tecnologia che sto mettendo molti articoli riguardanti l'orto sto mettendo aggiornamenti sto mettendo qualsiasi cosa ecco quindi potete iscrivervi anche potete iscrivermi qualche commento anche sulla pagina da presto non si sa vi lascio un punto di domanda forse rilascerò il mio numero basta che mi seguite sulla pagina agricoltura e si aprezzo di tutto quanto per questo video è tutto io vi ringrazio ancora vi ringrazio dal profondo del mio cuore è un video semplicissimo per ringraziarvi niente ci vediamo al prossimo video state sempre organizzate sul mio canale ciao a tutti da paolo fiat